Volevo stare un po' da solo per pensare tu lo sai Luca Grazzi è un ciclommatore montevarchino di 39 anni impegnato con la GS Gaudenzi che da domani affronterà il proprio mare del silenzio in un lungo tour in sella alla propria due ruote un cammino lunghissimo che gli farà attraversare gli Stati Uniti in ricordo della fidanzata Jennifer che il destino gli ha portato via nel 2007 in un tragico incidente in bicicletta Grazzi percorrerà gli oltre 8.000 km in 14 stati che separano San Francisco da New York un viaggio on the road che mi porterà attraversare gli Stati Uniti dalla costa ovest alla costa est e questo avverrà quasi in tre mesi di tempo il viaggio sarà logicamente in bicicletta fatto in solitaria e attraverso 15 stati dalla California fino a New York Jennifer in questo viaggio sarebbe stata al suo fianco e sicuramente nulla porterà alla sua mente ogni ricordo dell'amore più di quella solitudine sulla propria bicicletta lungo il continente americano è un viaggio che avevo in mente da tanto tempo e ora si è materializzata l'opportunità di farlo e sono molto felice e poi ringrazio la famiglia Cotenzi che mi supporta in questa avventura e devo dire che anche senza di loro sarebbe possibile